Uno dei più gravi problemi della nostra nazione è l'evasione fiscale e lo sappiamo tutti, quasi 200 miliardi si stima, si ha quasi paura a fare una stima completa ed esatta dell'evasione fiscale. Ora, questo però non giustifica il fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate introducano delle norme probabilmente troppo vessatorie nei confronti dei contribuenti. A cosa ci riferiamo? A una norma contenuta nella delega fiscale che va a sanzionare i prelievi dal conto corrente se la persona non è in grado di giustificare come ha utilizzato quei soldi. Ora, siamo cittadini liberi o non lo siamo? Perché una cosa è fare la lotta all'evasione fiscale, un'altra cosa è costringere i contribuenti a dichiarare qualsiasi movimento del proprio conto corrente. Secondo noi stiamo veramente andando oltre a quello che deve essere una vera lotta all'evasione fiscale che questo governo non sta facendo perché basta andare a guardare sempre nella delega fiscale tutti gli aiuti che stanno facendo ai grandi evasori fiscali. Ora, le partite IVA e i professionisti sono persone che lavorano e che comunque devono essere aiutate a pagare le tasse, innanzitutto attraverso un abbassamento della pressione fiscale e certi strumenti devono essere riservati solo a persone che fanno veramente una grande evasione fiscale.